Fandom Vibes arriva a Milano, parliamo di questo su Fan Week con me, io sono Elena. Una o due giorni dedicata ai fandom, questo è quello che accadrà il 27 e il 28 aprile a Milano grazie a Kinetic Vibe, un organizzatore di eventi che vuol far vedere come degli appassionatissimi fan possono diventare altrettanto appassionati e anche molto esperti e preparati professionisti del settore. Che cosa accadrà in questi due giorni al Fandom Vibes? I fan potranno incontrare i loro beniamini delle serie TV, YouTuber, del mondo del cinema ci saranno workshop, ci saranno conferenze, ci saranno panel, insomma tantissime attività molto interessanti e molto belle per formare appunto di professionisti del settore ma anche semplicemente per incontrare i propri beniamini. Volete sapere chi ci sarà? Verranno attori dal mondo di Gossip Girl, Teen Wolf, Riverdale ma anche del mondo dell'italianissima Scam Italia. Vi dico proprio i nomi, li volete? Ad esempio ci sarà Ed Westwick di Gossip Girl e poi anche Shelley Henning e Dylan Sprayberry di Teen Wolf. Un nutrito appuntamento, quello del 27 e del 28 aprile, da assolutamente da non perdere per incontrare i propri beniamini. Grazie a tutti! Grazie a tutti!